Antonio Canova tra il 1787 e il 1793 lavora ad un gruppo scultorio, lavora alla sublime unione tra amore e psiche. Come nasce quest'opera? Gli viene commissionata da un collezionista, da un amante delle antichità scozzese, il colonnello John Campbell. E a sottolineare l'amicizia, a sottolineare la stima tra questi due personaggi, a sottolineare l'entusiasmo intorno alla realizzazione di quest'opera, il colonnello commissiona un dipinto a un artista irlandese, Hug Douglas Hamilton, all'interno del quale vediamo Canova accanto alla sua scultura, amore e psiche giacente, che mostra un altro artista irlandese, Harry Thresham. Questo dipinto è stato realizzato precedentemente, nel 1788, quindi prima che l'opera di Canova fosse completata. Questo è evidente perché se vediamo la scultura che rappresenta amore è priva di ali. E c'è anche un altro dettaglio. Le pieghe del drappo che cingono psiche sono disposte in modo diverso, in modo differente rispetto alle pieghe che poi ritroveremo nell'opera di Canova completata. Quindi questo ci fa capire come lavorava Canova, come cambiava idea continuamente durante il suo lavoro, sempre alla ricerca di quella perfezione. Infatti esiste una lettera del 2 febbraio del 1791 nella quale Canova scrive a Campbell che aveva accantonato amore e psiche. Per ricominciare da capo, per ricominciare di nuovo, prendendo un altro blocco di marmo, perché appunto non era soddisfatto. L'opera terminò nel 1793, ma non fu mai spedita al colonnello. Per le reticenze di quest'ultimo probabilmente aveva terminato i fondi che permettevano appunto il trasporto dell'opera in Inghilterra. L'opera fu acquistata da Gioacchino Murat, fin quando poi non confluì nella collezione dell'Uvro, dove è tutt'oggi. Canova come rappresenta amore e psiche? Non ci dimentichiamo che Canova è il massimo esponente italiano del neoclassicismo, quindi si attiene ai rettami di Winckelmann, al bello ideale, alla nobile semplicità, alla quieta grandezza. Quindi nonostante questa posa, nonostante questo atteggiamento, questa articolazione di questi corpi, con psiche che imprime al corpo una torsione, un avvitamento. Protende le braccia verso l'alto, verso amore, vuole trattenerlo. Invece amore si avvicina a lei, si china verso di lei, con le ali già spiegate, perché è pronto per partire. Quindi nonostante questo atteggiamento, Canova resta fedele, resta sensibile alla statuaria classica, mostrandoci una perfezione anatomica, dei gesti misurati, mostrandoci la staticità, l'equilibrio di questa composizione. Infatti se noi ci mettiamo di fronte l'opera, notiamo come il corpo di psiche, insieme alla gamba e alle ali di amore, creano uno schema di X simmetrico. E l'incontro fra le due direttrici rappresenta il fulcro dell'intera composizione, ovvero ciò che attira la nostra attenzione. Quello spazio così piccolo, che divide i due volti di amore e psiche così vicini, quelle labbra così vicine ma distanti che non si toccano, probabilmente Canova ha voluto rappresentare un bacio mancato, l'eterna lotta tra mente e cuore, tra psiche e amore, il protendersi verso l'altro che non trova mai compiutezza, oppure ha voluto rappresentare un bacio già avvenuto, che ha permesso il risveglio di psiche di tornare alla vita. Infatti i critici contemporanei, in particolare l'esteta tedesco Ludwig Fernau, oltre a individuare un probabile modello per quest'opera in un affresco antico di Ercolano in cui c'è un fauno che si avvicina furtivamente e quindi vuole sorprendere una ninfa che dorme e la bacia chinandosi su di lei, videro in questo gruppo due giovani che si perdono, si abbandonano ad effusioni amorose. In realtà se noi osserviamo il retro dell'opera perché Canova aveva ideato questa composizione, questo gruppo per essere apprezzato da diversi punti di vista, perché altrimenti non avrebbe avuto senso scolpire nella parte retrostante un'anfora e una freccia. L'anfora sarebbe quella che psiche aveva aperto nonostante il divieto dalla quale era fuoriuscito quella nuvola, quindi quei vapori stigi mortali che avevano fatto cadere psiche nel sonno profondo. La freccia invece è quella utilizzata da amore per risvegliare, quindi pungendo psiche per risvegliarla ovviamente senza farle del male. Quindi Canova si rifà fedelmente al testo latino, al testo di Apuleio, ma Canova aveva un rapporto fedele con le fonti. Questo ce lo racconta un suo biografo che ci dice che mentre lui lavorava amava leggere, si faceva leggere, dei testi classici, greci, latini, e se Canova attraverso quest'opera avesse voluto rappresentare il filo rosso che tiene legata tutta la storia di amore psiche, ovvero ciò che anima le vicende di questi due personaggi, Canova avrebbe potuto fissare, rappresentare per sempre, con questo incrocio di sguardi con queste braccia che si uniscono, l'amore. L'assenza di individualità, la fusione con l'altro, il completarsi a vicenda. Quindi questo che vediamo non è un abbraccio, non è un semplice abbraccio, psiche sta per morire perché aveva respirato quei vapori mortali, infernali, e amore che non è più quel giovane irriverente che scoccava le sue frecce a caso per divertirsi, è diventato un ragazzo sensibile, premuroso, profondamente innamorato, quindi corre, vola in soccorso della sua amata, la riporta alla vita. Quindi quello che avviene è un rigenerarsi, è un accatarsi da entrambe le parti. Canova ha accolto perfettamente il senso di tutta la storia, un percorso, quello dell'anima, che deve mettere da parte la razionalità, deve aprirsi, deve abbandonarsi ai sensi, deve abbandonarsi alle emozioni, deve abbandonarsi ai sentimenti. È un percorso lungo, difficile, fatto di tante prove, di tante sfide e di tante sofferenze, ma sono necessarie, perché un giorno permetterà di spiccare il volo.